Ramondo Ida, vedova Mancuso, fu Ramondo Giuseppe al Maggià Nore, professione maestra alimentare e ho un figlio, Mancuso Antonio, di anni 16. Ma voi a scuola non ci andate? Ah, ma i figli li sei immaginato pure in Austria. E' scritto al Maggià o al Maggià? Al Maggià. Mia madre era ebrea. Signorina, arrivo. E' Giuseppe. Eh, vabbè, sono ragazzi. No, sono fascista. Luce, luce, luce! Combattiva la Padre e il Perduce. Tu finirei morto! Torno presto. Signora, ma perché non lo mette sul caretto, sto ragazzino? Sì. Vedici come ti chiami? Sì. 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 È il mio figlio. Ammazza quanto è bello. Tu perché ci stai? Perché mi ero stancato dalla vostra ricamice nera. Ma te te li hanno buttati tutti? Lei lo sa. Sono ebrea anch'io. Dico, forza, un po' di coraggio. E qua? Stiamo a insorgere in tutta Italia, eh? C'è tutti! Poi finisce la guerra, ma sposo. Si imbarcamo su una nave transoceanica e partimmo per l'America. Ah! Sì. 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 Sì.